Stasera dipende dal responsabile della comunicazione perché io gli ho detto i tre nomi che saranno di qui alla fine e poi l'ho fatto scegliere. Se volete vi dico i prossimi che ci saranno in conferenza stampa, le prossime due partite. Simeone e Mario Ruiz, li ho messi tutti a disposizione per le tre partite, però l'hanno scelto in base a quella che è l'ultima, è chiaro che su tutti noi ci sarà un po' più curiosità, poi hanno fatto tanta roba per la funzione dei risultati, lui e Simeone perché hanno fatto tanti gol, hanno fatto delle straordinarie partite per cui si pensava ci fosse curiosità a portare loro. E poi il calciatore Meperano che quest'anno sta facendo altrettanto bene come l'anno scorso, che è un periodo. Ora si vedrà, domanda a me da dove si può dare il prossimo.